Lunga notte dell'epifania a Londra. Si hanno i folli baci di mezzanotte, i folli scontri con la polizia, i folli tuffi nella fontana con l'acqua a 5 gradi sotto zero, che però non serve a smaltire completamente la sbornia. Piazza Trafalgar è diventata per una notte almeno il banco di prova della tradizionale flemma britannica. La polizia è intervenuta e 200 scalmanati sono finiti al fresco, ma iniziare i 61 in maniera umida significa felicità. Sternutile per credere, le bronchiti si sa, le ha portate via tutte l'anno bisestile.